Noi abbiamo scelto Michele Nicolai perché con lui abbiamo fatto una sindesi di tutta la coalizione, c'erano delle altre persone che sicuramente avevano pari dignità di potersi candidare, però io credo che Michele, essendo stato un sindaco, un consigliere provinciale uscente e altri amici che svolgono già altri ruoli, tipo sindaco, consiglieri comunali del Comune Capoluoco, anche gli alleati avevano sicuramente delle personalità di rilievo da poter candidare, però abbiamo trovato questa sintesi comunemente, noi siamo felici di tutto questo e pensiamo, io dai sentori che ho, c'è tanta gente che anche di un'area non vicinissima alla nostra hanno una propensione e una disponibilità a poter dare un voto al nostro candidato Presidente. C'è tanta sete di politica nel territorio della provincia, io lo sto notando in queste giornate che sto dedicando all'incontro con i sindaci e gli amministratori locali, c'è voglia di politica e c'è voglia di cambiamento e coniugare queste due esigenze credo che sia la cosa più importante. Noi questa partita non la stiamo giocando per pareggiarla, la stiamo giocando per vingerla e le condizioni essenziali per poter arrivare a ciò era riunire il popolo di centro-destra e lo abbiamo fatto, io ringrazio perché è stata scelta la mia persona, io sono un semplice operaio della politica però ho sempre creduto nell'appartenenza, nello spirito e nella benegazione di chi fa politica nel territorio in primis e nell'esigenza del territorio e con questo spirito stiamo approcciando questa campagna elettorale.